Bene, buonasera. Iniziamo oggi con puntualità, anche perché i nostri relatori che vengono da lontano devono ritornare, quindi alle 7 imprescindibilmente ci hanno chiesto di chiudere. Su questo tema che pensiamo possa essere di interesse, perché ha una serie di aspetti e di profili ancora prima forse che fiscali, civilistici relativamente ai temi del commercio elettronico e quindi della possibilità e anche dell'ampliamento delle transazioni. Quindi abbiamo pensato di fare un approccio sistematico sulle imposte indirette di cui si occuperà il professor Montanari, un approccio relativamente alle imposte sul reddito di cui si occupa l'avvocato Silvia Giorgi e poi abbiamo un insieme di casi pratici proprio con una casistica diciamo proprio molto molto attuale che verrà invece illustrata dal dottor Curco dell'ufficio fiscale della Confindustria Trento. Quindi io non rubo altro tempo ai relatori, passo subito la parola al professor Francesco Montanari che ringrazio, collega della vicina Università di Bolzano, per inquadrare il tema relativamente al grande aspetto problematico che è quello dell'IVA. Grazie. Intanto ringrazio ovviamente l'amica Alessandra dell'Università di Trento per aver organizzato questa iniziativa, anche perché obiettivamente è un tema che non viene trattato spesso, cioè è un tema di cui si sente parlare, si orecchia, si leggono degli articoli di pratici anche molto 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 ben fatti spesse volte, ma raramente vi sono convegni universitari come in questo caso che trattano questa tematica. Tematica estremamente complessa sotto vari profili, come già accennava la professoressa Magliaro dal punto di vista delle qualificazioni civilistiche e quindi di tutto quello che è la preliminare indagine che deve necessariamente riguardare il profilo fiscale, cioè capire di cosa stiamo parlando, cioè di che tipo di transazioni stiamo parlando, di che tipi di contratti stiamo trattando. Anzi, oggi colgo l'occasione per presentare anche un volume che è stato appena edito dalla UTET del 2014, uscito la settimana, dieci giorni fa, che è proprio a cura del professor Delfini e della professoressa Finochiaro, che ha trattato tutte le tematiche del diritto dell'informatica, quindi non solo commercio elettronico, oggi siamo più incentrati su commercio elettronico, ma come sapete il diritto dell'informatica prevede problemi con la firma digitale, con 2500 tematiche connesse, prevalentemente civilistiche e penali, anche in altri casi, e poi noi abbiamo trattato un aspetto, tutti gli aspetti della fiscalità del diritto dell'informatica, quindi è solamente un po' di pubblicità questa, non a fine di lugro perché la UTET di diritti praticamente non li dà, per cui è semplicemente di tipo divulgativo a chi può essere interessato a questo tipo di lavoro. Per entrare un po' nel vivo della questione, io mi occuperò dell'IVA in particolare, tutto sommato l'IVA è il tributo che ha avuto la maggiore espansione, perdonatemi, la maggiore espansione per quanto riguarda i rapporti e i contratti informatici, perché è un tributo di origine europea, quindi tutto sommato, tutta la disciplina, per non dire integralmente, ma quasi una parte della disciplina europea è stata poi recepita dall'ordinamento italiano, ma una buona parte della disciplina che riguarda i servizi prestati mediante mezzi elettronici è di diretta applicazione europea, diretta emanazione europea, cioè regolamenti europei, direttive europee che trovano diretta applicazione nel nostro ordinamento. Poi è chiaro che il legislatore italiano, in taluni casi, adesso vedremo come, si è adeguato. Devo dire, e in questo caso anche, e lo vedremo entrando in qualche casistica che vi proporrò, che anche l'Agenzia delle Entrate, a volte spesso criticata nei convegni, invece ancora prima della emanazione di alcuni regolamenti europei che hanno disciplinato talune fatti specie, ha interpretato taluni contratti e talune specifiche operazioni in maniera corretta, anticipando addirittura quello che poi ha detto la stessa Unione Europea con i regolamenti del 2005 e del 2011, che andremo adesso a vedere. Qual è il problema dell'IVA? Il problema di carattere teorico, ma non tanto. Voi sapete bene che l'IVA è ancorata al 90% alle categorie civilistiche. Cioè l'IVA è un tributo che riguarda contratti, fatti specie contrattuali tipiche o atipiche, ma che sono di diretta emanazione nell'ordinamento interno. Spesso invece sia la Corte di Giustizia, sia lo stesso legislatore europeo, applica e utilizza delle categorie che sono del tutto avulse da quelle che sono quelle nazionali, con una valenza a volte di tipo economico piuttosto che di tipo prettamente giuridico. Al tempo stesso lo stesso problema delle transazioni telematiche fa sì che costantemente si vengano a creare nel mercato telematico, inteso in senso lato, sempre fatti specie contrattuali nuove che non trovano ovviamente un'apposita disciplina interna che possa essere direttamente inclusa in quella dell'IVA ovviamente. Per entrare bene nel vivo, voi sapete bene, immagino che conosciate bene questa grande macro distinzione tra quello che è il commercio elettronico diretto e il commercio elettronico indiretto tendenzialmente. Nozione che vedremo essere però molto sfumata oggi in ambito IVA. Perché dico molto sfumata? Perché mentre quello che è il commercio elettronico diretto, cioè quello tipo di commercio elettronico in cui la rete, diciamo internet, viene utilizzato solamente come strumento per una transazione commerciale, ma lo stesso si potrebbe avere con i canali tradizionali, il commercio elettronico indiretto è quella tipologia di commercio elettronico che si viene ad esaurire, diciamo, all'interno della rete. Cioè tutto online. Però perché dico che questa distinzione viene un po' meno in ambito IVA? Perché in realtà in ambito IVA il concetto fondamentale è quello di servizio prestato mediante mezzi elettronici. Quali sono i problemi aperti? Diciamo che in termini generali i servizi prestati mediante mezzi elettronici vengono qualificati in generale come prestazioni di servizi. Però al tempo stesso né la normativa europea, se non in maniera casistica, né la normativa interna disciplina che cosa debba intendersi tecnicamente per servizi prestati mediante mezzi elettronici. Perché in linea puramente teorica anche il commercio diretto potrebbe rientrare nell'ambito, il commercio, scusate, elettronico diretto potrebbe andare a rientrare nell'ambito dei servizi prestati mediante mezzi elettronici. Però così non è. E il problema che si è posto, ma poi vedremo che cerchiamo di risolvere il problema più che di porli, tutta la disciplina che si è venuta a creare in ambito europeo è stata finalizzata fondamentalmente a identificare la territorialità delle prestazioni. Quindi dandosi per scontato molte volte il concetto stesso di servizio prestato mediante mezzi elettronici. Cioè il legislatore ha detto questo tipo di servizio prestato tramite mezzi elettronici va territorialmente in questa direzione, in quell'altra direzione, ma non quasi mai si trova una definizione. Passo avanti, notevole, però è stato fatto, appunto come vi dicevo precedentemente, dal diritto dell'Unione Europea che ha iniziato a occuparsi di questa tematica, quella direttiva numero 38 del 2002, e fino però ad arrivare ai due fondamentali pilastri dell'attuale normativa europea in materia che sono il regolamento UE 17 ottobre 2005 e 15 marzo 2011, in cui, in realtà, viene fornita una sorta di definizione di queste categorie. Infatti si definisce queste tipologie di prestazioni e di servizi quelli forniti attraverso internet, vi leggo testualmente il regolamento del 2011, o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia e dell'informazione. Questa è, diciamo, la definizione che emerge dal regolamento. Poi da questa definizione generale vengono tratte poi dei casi esemplificativi, cioè lo stesso legislatore europeo dà una serie di esemplificazioni. Però forse quello che è ancora più importante sono le esclusioni, perché dalle esclusioni si capisce ancora meglio che cosa si intende per prestazione resa mediante strumenti informatici. E tra queste esclusioni sono, per esempio, importante quelle per cui vengono esclusi gli insegnamenti, cioè i corsi di insegnamento tramite internet. Perché questo? Perché questa non è una prestazione automatizzata, cioè è una prestazione online, sicuramente perché viene fatto un servizio online, ma implica un intervento umano rilevante. Così come, per esempio, anche le prestazioni di tipo legale e di consulenza online non vengono ricondotte nell'ambito di quelle che sono le prestazioni rese tramite mezzi elettronici. Per cui ciò che rileva, in fondo, nell'ambito di tale categoria, è proprio il fatto che vi sia o meno un intervento umano. Se c'è l'intervento umano non si tratta di prestazioni rese mediante servizi elettronici, se c'è prestazione umana, invece, chiaramente, rientriamo nell'ambito dell'ordinario commercio elettronico, non prestazione di servizi resa mediante commercio elettronico. Quindi per questo, vi dicevo, inizialmente viene un po' meno la distinzione tra commercio elettronico diretto e commercio elettronico indiretto. Perché nell'ambito di prestazioni che nascono e si esauriscono all'interno della stessa rete potremo avere delle prestazioni che sono qualificabili come prestazioni rese mediante mezzi elettronici ed altre prestazioni che non sono rese tramite mezzi elettronici perché presuppongono l'intervento umano. Quindi questa macro distinzione tra commercio elettronico diretto e commercio elettronico indiretto in realtà sfuma in ambito IVA. Il concetto rimane quello di prestazioni rese mediante servizi elettronici secondo questa categoria. Questa problematica, questa categorizzazione che viene data dal legislatore europeo e parzialmente vedremo anche però sempre in tema di territorialità da quello italiano crea alcuni problemi. Perché pensiamo crea dei problemi di discriminazione, per esempio. Perché adesso che si stanno ponendo si porranno sempre di più. Pensate al meccanismo dell'editoria in cui per quanto riguarda l'editoria online vi sono aliquote che sono piene al 22% mentre per quanto riguarda l'editoria che non è servizio prestato mediante mezzi elettronici vi è l'aliquota ridotta. Questo perché, come sapete, l'articolo 98 della direttiva prevede proprio che le aliquote ridotte non si applicano ai servizi prestati mediante mezzi elettronici. Quindi anche una rigida definizione della categoria è fondamentale anche in questi termini. Tant'è che è in aria nell'Unione Europea che venga modificato. Alcuni stati, per esempio, se ne sono fregati altamente della direttiva europea e applicano la liva ridotta in tutti i casi. Tant'è che sono oggetto di procedure di infrazioni. Penso a Lucemburgo e alla Francia che hanno ritenuto di applicare sempre le aliquote ridotte e infatti sono sotto procedure. Da questo quadro generale a questo quadro generale, scusate, si è adeguata perfettamente, come vi dicevo, l'Agenzia delle Entrate. Perché già prima dell'introduzione del regolamento del 2011 che vi ho citato precedentemente, nel 2005 l'Agenzia con la circolare no, scusate, nel 2004 quindi prima addirittura del regolamento del 2005. Il 15 novembre del 2004 quella circolare 133 dell'Agenzia delle Entrate ha proprio definito il servizio prestato tramite mezzi elettronici come quel servizio reso attraverso internet o una rete elettronica sto leggendo testualmente la circolare ossia un servizio la cui fornitura è per natura strettamente dipendente dalla tecnologia e della informazione senza che vi sia un rilevante intervento umano. Quindi prima ancora che fosse emanato il regolamento che poi è disciplinato dalla materia l'Agenzia sarà già adeguata. Tant'è che in effetti se poi si guarda la prassice e la casistica che si è venuta a sviluppare successivamente per esempio ha ritenuto che non possano essere considerati i servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli le prestazioni alberghiere per esempio cioè le pronotazioni online perché in questo caso presuppongono anch'esso un intervento umano e mi riferisco alla risoluzione 16 maggio 2008 numero 199E anche anch'essa ancora precedente rispetto al regolamento che ha diciamo un po' sistematizzato la materia. Al contrario per esempio è stato ritenuto invece servizio prestato tramite mezzi elettronici tutto ciò che riguarda il cosiddetto ebay cioè i sistemi online ma anche in questo caso viene valorizzato proprio la totale assenza di un di un intervento umano. sempre per chiudere questa casistica velocemente giustamente la stessa agenzia ha ritenuto che non possono essere applicate alla editoria online le aliquote agevolate ma perché un'interpretazione di questo genere andrebbe a cozzare immediatamente col diritto europeo con anche eventuali responsabilità della stessa agenzia che non può interpretare la norma interna in contrasto con l'Unione Europea quindi in questo caso è ovvio che tutto è più che corretto. Ultimo caso per chiudere questa brevissima casistica è quello per esempio delle vendite online floreali anche in questo caso è stato escluso che si tratti di servizi prestati tramite mezzi elettronici perché si tratta sempre di prestazioni che riguardano un rilevante intervento umano. Questo per capire brevemente la tematica. Profilo della territorialità che è un profilo estremamente rilevante ovviamente perché il problema vero del commercio elettronico e che peraltro del commercio elettronico o in generale dei servizi online intanto è un problema di tipo di oggi che va molto per la maggiore di abuso perché obiettivamente la delocalizzazione di un contratto più che di un soggetto perché qui non c'è un problema solo di un soggetto vedremo poi il problema dello stabilimento del soggetto nell'Unione Europea o extra web e il problema è che chiaramente vi è una delocalizzazione totale la difficoltà anche per le autorità fiscali di identificare i reali luoghi in cui avvengono le prestazioni diciamo che è stato tutto un po' semplificato nel 2010 quando è stata riformata sensibilmente come sapete con una svolta epocale la territorialità dell'IVA e quindi queste regole che riguardano la territorialità dei servizi si applicano anche ai servizi prestati mediante mezzi elettronici perché è stata diciamo semplifico ai massimi termini la questione perché ci sarebbe una casistica enorme sulle eccezioni regole ma la regola generale che vale per i servizi prestati mediante mezzi elettronici è la ordinaria regola per i servizi generici cosiddetti che vengono utilizzati per cui regola incentrata sul luogo del consumo quindi con la distinzione che se le prestazioni vengono rese ai consumatori finali assume rilevanza il luogo in cui viene svolta la prestazione di servizi cioè dell'attività e se invece la prestazione viene resa ad altri soggetti passivi cosiddetti business to business invece in questo caso vale il luogo del committente regime speciale rimane ancora oggi per gli operatori extra UE come sapete perché per gli operatori extra UE vale il cosiddetto regime dell'identificazione diretta nell'ordinamento italiano è un principio abbastanza logica che risponde peraltro al criterio generale del luogo del consumo non vi sto a spiegare tutta la procedura quindi identificazione tramite richiesta al centro operativo di Pescara e via dicendo per l'identificazione poi non so se però tutti sanno che nel primo gennaio del 2015 questa disciplina entrerà in vigore anche per gli operatori UE per cui molte delle problematiche che si vengono a porre oggi con le transazioni intra UE la delocalizzazione e la impossibilità di di tassare in Italia delle prestazioni anche passate impropriamente intracomunitarie cioè tra soggetti europei verranno meno perché se viene introdotto l'obbligo di identificazione del territorio dello Stato sarà come se vi fosse una prestazione in Italia parlavamo prima con la professoressa Magliaro di tanti problemi che si pongono con dei server localizzati in Irlanda per esempio che hanno dei particolari regimi a prestazioni prestazioni di servizi resi a consumatori in Italia che praticamente sfuggono a tassazione sia in Irlanda che in Italia peraltro quindi con un'erosione del gettito IVA che va anche a porsi probabilmente con la disciplina europea della stessa imposta sul valore aggiunto che è un tributo europeo e quindi una risorsa europea il problema che però bisogna affrontare e che in realtà questo è veramente un problema ancora abbastanza non dico irrisolto ma che presenta profili di criticità è quella della identificazione del luogo del prestatore cioè quando si può dire che un soggetto è stabilito in un determinato luogo perché in certi casi la cosa è molto semplice ma per quanto riguarda i servizi prestati mediante mezzi elettronici la cosa è tutt'altro che semplice questo perché perché in realtà il regolamento del 2011 sul punto è abbastanza sibillino ma perché è sibillino perché sembra applicare dei criteri che sono noti nell'ambito del cosiddetto centro di attività stabile che è diciamo il criterio principe che viene utilizzato in ambito IVA ha le prestazioni mediante mezzi elettronici che però hanno delle peculiarità cioè non è il concetto di centro di attività stabile per le prestazioni elettroniche chiaramente ha delle caratteristiche che non sempre sono le medesime che si possono riscontrare nei normali rapporti commerciali infatti che cosa dice il regolamento del 2011 ha definito la stabile organizzazione come qualsiasi organizzazione diversa dalla sede dell'attività economica dice caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea e non o e una struttura idonea di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di fornire le servizi di cui assicura la prestazione questa è la definizione che viene applicata dal regolamento del 2011 anche in ambito IVA qual è il problema però? è la definizione stessa di servizio prestato mediante mezzo elettronico implica che non vi siano dei fattori umani rilevanti perché sennò non stiamo parlando di questa cosa cioè la definizione di centro di attività stabile si fonda proprio sul un certo grado di stabilità e non o mezzi umani e tecnici ma se l'elemento che caratterizza la fattispecie del servizio prestato mediante mezzo elettronico è proprio la carenza di un fattore umano è chiaro che questo criterio non lo possiamo applicare nell'ambito dei servizi prestati mediante mezzi elettronici perché se no facciamo un ragionamento circolare che non mi permette di arrivare a niente e quindi qui premetto che non c'è in questo punto specifico sul centro di attività stabile ci sono fiumi di giurisprudenza ma non c'è a quanto mi risulta perlomeno una giurisprudenza dell'Unione Europea che come sapete in questo caso sarebbe totalmente vincolante anche per noi trattandosi di IVA sul punto la dottrina è un po' diciamo divisa però si tende a ritenere che anche il server possa essere considerato un centro di attività stabile proprio anche perché comunque la permanenza vi è pur non essendovi mezzi tecnici ma chiaramente questa nozione deve essere adattata con quello che è la realtà dei servizi prestati mediante mezzi elettronici poi dopo l'avvocato Zorici parlerà della stabile organizzazione nell'ambito delle imposte sui redditi però è un profilo diverso è ovviamente molto diverso anche perché appunto il problema dell'IVA è che l'IVA si applica un contratto di fatto che come vi dicevo inizialmente è un contratto che si viene a dematerializzare nell'ambito di internet mentre nell'ambito delle imposte sui redditi è più facile anche identificare magari soggetti poi con delle peculiarità che ci spiegherà successivamente notevoli anche per le imposte sui redditi ma l'imposizione sui redditi presuppone criteri diversi residenza e quindi un grado di collegamento territoriale di un altro tipo rispetto all'IVA questo per quanto riguarda il quadro di carattere generale l'IVA è sicuramente il tributo che presenta maggiori problematiche però non si possono anche trascurare altri tributi perché il mio diciamo il mio intervento riguarda i tributi sugli affari non solamente l'IVA cioè l'IVA è sicuramente il tributo che presenta più problemi ma ce ne sono altri altrettanto problematici nelle prestazioni di servizi e mi riferisco in particolare all'imposta di bollo e all'imposta di registro perché sembra una cosa una dica ma l'imposta di bollo parliamo di pochi soldi ma cosa posso dire che senso ha nelle transazioni telematiche intanto ci sono certi operatori che fanno operazioni per esempio bancarie o finanziarie di notevole rilevanza che hanno dei costi su imposte di bollo e su imposte di registro possono averli anche notevoli e poi non dimentichiamoci che a seconda dell'oggetto che viene trasferito online potremo avere anche delle ipotesi di applicazione dell'imposta di registro di notevole entità cioè l'imposta di registro normalmente viene pensata sulla trasferimento dell'immobile sull'atto pubblico diciamo nel sentire comune poi ovviamente voi che siete tecnici sapete bene che ha un altro tipo di funzionamento però è un problema che rimane un po' sempre sullo sfondo perché dico questo perché vi sono molte volte i contratti telematici i contratti diciamo online vengono appunto si vanno ad esaurire nella rete mentre in altri casi la rete come vi dicevo inizialmente rimane solamente lo strumento perché questi contratti si vadano a perfezionare in particolare mi riferisco il problema si pone con taluni talune norme del testo unico dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo una premessa chiaramente io do per scontato in questo caso che non vigla il principio di alternatività IVA registro ovviamente perché ovviamente se viene applicato il tributo l'altro non si porrà il problema è chiaro e quindi se si applica l'IVA si applica anche il registro peraltro oggi si ritiene che anche le operazioni esenti implichino cioè siano operazioni rilevanti e finiva e quindi che l'alternatività viga anche per nel caso di un'operazione esente e quindi soggetta ad imposta tecnicamente l'articolo 1 infatti parte seconda della tariffa allegata al dpr 186 prevede che la formazione di un atto mediante uno scambio di corrispondenza non obbliga alla registrazione dell'atto a meno che naturalmente non sia richiesta la forma scritta appena di nullità in base al tipo di contratto che viene stipulato e quindi anche i contratti che vengono stipulati per corrispondenza non è da escludere che possano essere oggetti all'imposta di registro soggetta all'imposta di registro chiaramente solamente in caso d'uso perché ovviamente non c'è in questo caso non ci sarebbe l'obbligatorietà per cui il caso d'uso è il caso che può prevedere l'applicazione del registro che è tutt'altro che potrebbe essere tutt'altro che leggero come tributo perché è in base al tipo di bene che viene trasferito solo a titolo esemplificativo poi i casi potrebbero essere moltissime ma il problema maggiore che si viene a porre ed è totalmente inesplorato in realtà può sorgere nel caso in cui il contratto redatto scusate mediante mezzi informatici si sostanzi in un documento informatico con firma digitale sottoscritto da entrambe le parti per esempio e quindi dovendosi escludere in questo caso il cosiddetto contratto mediante scambio per corrispondenza perché come sapete il contratto mediante scambio per corrispondenza è un contratto che non si va a formalizzare contestualmente ma proposta accettazione scambio per corrispondenza caso d'uso eccetera eccetera ovviamente non entro tanto nel dettaglio di queste cose in questo caso vediamo come in realtà lo strumento informatico rimane solamente sullo sfondo perché in questo caso se i due file tra virgolette vengono racchiusi in un unico file quindi sottoscritti da entrambe le parti in un unico documento e non è tanto scontato che si tratti di un contratto stipulato per corrispondenza e quindi potrebbe applicare potrebbe doversi applicare il tributo sono temi nuovi ma qualche piccolo profilo sta nascendo anche oggi profilo problematico scusate chiaramente in questo caso cioè quando viene sottoscritto da entrambe le parti il documento informatico troverà applicazione peraltro l'imposta di bollo assolta in modo virtuale perché sapete che l'articolo 2 del dpr 642 del 72 dispone l'applicazione dell'imposta fin dall'origine dice la norma alle scritture contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano si modificano si accertano sul documento rapporti giuridici di ogni sua parte e in questo caso è fin dall'origine che viene firmato il documento cioè non c'è nessun scambio di corrispondenza quindi a volte c'è anche l'aspetto diciamo l'altro aspetto della medaglia in queste problematiche cioè non solo il vantaggio ma anche profili di rischiosità fiscale chiaramente qui sto dicendo sto parlando di una fattispecie che si in cui lo strumento informatico viene a far sì che vi sia un incontro della volontà delle parti nell'ambito del medesimo documento cioè che vi sia un'accettazione e una proposta di accettazione pressoché istantanea molto diverso ovviamente il caso in cui venga semplicemente archiviato un documento con firma digitale e con i mezzi di archiviazione che per esempio presupponeva la citazione e diciamo la proposta la citazione mediante corrispondenze poi viene semplicemente archiviato il file in questo caso non dovrebbe esserci nessuna problematica fiscale ovviamente perché è semplicemente diventa un contenitore la firma lo strumento informatico quindi diciamo per chiudere poi chiudo così sto nella mezz'ora che mi ero dato quindi chiaramente i profili diciamo fiscali del commercio delle prestazioni rese mediante mezzi elettronici intese in senso stretto cioè come quelle transazioni che avvengono online per quanto riguarda l'IVA o quelle transazioni invece per quanto riguarda altri tributi indiretti che presuppongono l'intervento umano ovviamente perché abbiamo parlato di cose parzialmente diverse e devono essere prima certamente qualificate civilisticamente cioè occorre capire il tipo di prestazione che viene resa quanto vada ad influire l'intervento dei soggetti e dopodiché chiaramente essendo questi tributi tutti i tributi che sono plasmati sulla fattispetta civilistica solo in quel momento si potrà poi andare a comprendere quale sarà il regime fiscale sia per quanto riguarda l'IVA sia per quanto riguarda i tributi minori che però possono anch'essi presentare alcuni profili di crescita e vi ringrazio grazie 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 a Francesco Montanari che ci ha fatto questo quadro ampio molto ben dettagliato e verrà poi messo alla prova immagino dalle domande sul tema e quindi dopo aver diciamo analizzato e visto quali sono i punti di riferimento dell'imposizione diciamo così indiretta vediamo quali sono i profili più problematici relativi all'imposizione sui redditi e in particolare con piacere do la parola all'avvocato Silvia Giorgi di Bologna ma anche docente ai nostri laboratori qui quindi di casa anche lei all'università ringrazio ringrazio ovviamente la professoressa Magliaro per l'invito in questo graditissimo incontro che offre l'occasione di approfondire insomma fare una chiacchierata su un tema così attuale ai fini dell'imposizione diretta il commercio elettronico pone dei profili legati per lo più ai problemi di localizzazione del reddito perché ovviamente il mercato telematico nasce per definizione globale quindi in un certo senso abbatte un po' quelle barriere territoriali tipiche del commercio tradizionale favorendo quindi una dislocazione virtuale anche virtuale delle imprese allo stesso tempo il mercato telematico ha delle minori barriere di ingresso questo ovviamente facilita questo processo di delocalizzazione e soprattutto abbatte di fatto le fasi di intermediazione potendosi l'impresa porre in contatto diretto con il consumatore finale certamente con una maggiore facilità il fenomeno ovviamente nell'ambito dell'imposizione diretta è visto con sospetto nella misura in cui diventa uno strumento per realizzare fenomeni evasivi elusivi abusivi in generale di erosione della base imponibile di uno stato generalmente ad alta fiscalità per facilitare dislocazioni in stati a bassa fiscalità non a caso i fenomeni di dematerializzazione e digitalizzazione sono espressamenti presi in considerazione a livello OXE dal BEPS il diciamo il modello di lavoro sul base erosion and profit shifting che dedica espressamente numerose azioni ai fenomeni di dematerializzazione e nello specifico ai fenomeni di digitalizzazione fornendo proprio delle indicazioni operative sia per operazioni riguardanti il transfer price sia in generale per tutti i fenomeni di diciamo delocalizzazione artificiosa volto a sottrarre materie imponibili agli stati ad alta fiscalità quindi diciamo la cornice di fondo in cui ci muoviamo è questa al contempo è ovvio che i fenomeni di dematerializzazione e digitalizzazione pongono poi dei problemi specifici anche a livello di categorie giuridiche e tributarie perché lo stesso concetto dei beni digitali dei diritti digitali crea delle difficoltà applicative a diciamo importare nelle transazioni telematiche delle categorie dei concetti delle nozioni che sono state tradizionalmente elaborate per beni dotati di consistenza fisica si pensi a un banale principio di competenza che è ancorato sulla dicotomia tra beni e servizi la difficoltà di applicarlo a transazioni totalmente sprovviste del requisito della materialità anche nell'ambito delle imposte dirette preciso che forse un po' più che nell'ambito IVA vale la distinzione fra e-commerce diretto e indiretto cioè indiretto lo strumento telematico è una mera occasione sostanzialmente per favorire la relazione commerciale viceversa nel e-commerce diretto è proprio il bene che viene in sostanza digitalizzato e quindi non è solo nello spazio in cui si realizza la relazione commerciale ma è proprio quello che l'oggetto stesso della transazione che perde consistenza materiale entrando un po' nel vivo sotto il profilo delle imposte dirette possiamo tracciare diciamo le problematiche a quelle di localizzazione del reddito su cui si soffermeremo nella parte finale di questa breve relazione e quindi con tutte le problematiche relative all'individuazione della stabile organizzazione e poi ancora prima i problemi di qualificazione del reddito prodotto attraverso il commercio elettronico o comunque la telematizzazione dei contratti in generale la partita grossa quando vengono in considerazione dei beni digitali si gioca nella distinzione fra le fattispecie dei redditi di lavoro autonomo e di redditi di impresa più che altro non che ovviamente anche nei redditi diversi le altre fattispecie reddituali ovviamente sono toccate in maniera molto marginale si può citare forse così solo per completezza l'ipotesi dei rimborsi in caso di telelavoro ma non pongono grossi problemi cioè si è posto il problema di quale sia il trattamento fiscale dei costi sostenuti dal telelavoratore che quindi lavora a distanza quindi deve sostenere dei costi per appunto instarare il rapporto telematico con l'azienda quale sia il trattamento fiscale di questi costi qui diciamo non si sono posti grossi problemi perché in applicazione dei principi generali essendo costi sostenuti nell'interesse esclusivo dell'azienda quindi del datore di lavoro sono stati ritenuti non soggetti a imposizione quindi al di là di questa fattispecie che direi veramente esemplificativa come dicevo la partita grossa si gioca tra gli articoli 53 55 e 67 e nella misura in cui diciamo i diritti sui beni digitali vengono bene o male ricondotte al genus dei beni materiali quindi alla proprietà intellettuale i diritti di utilizzazione sull'opera dell'ingegno ovviamente il raffronto è tra l'articolo 53 quindi i redditi di lavoro autonomo che come noto attrae alla categoria tutti i compensi derivanti dall'utilizzazione economica ad opera dello stesso autore quindi a prescindere dallo svolgimento con caratteri di autonomia che tradizionalmente caratterizza il lavoro autonomo qui la semplice utilizzazione economica da parte dello stesso autore come noto comporta la qualificazione come redditi di lavoro autonomo viceversa se l'utilizzazione avviene ad opera di un soggetto diverso si rientra nei redditi diversi quando anche il soggetto si abbia ottenuto in sostanza la possibilità di utilizzare economicamente questi diritti anche a titolo gratuito per esempio per successione o per donazione il problema più delicato è capire quando si rientri nell'ambito dell'attività di impresa e quando nell'ambito del lavoro autonomo ora senza attiviarvi sul problema della distinzione fra prestazioni di servizi secondo alcuni anche produzione di servizi probabilmente il criterio più diciamo di più semplice applicazione è quello che fa leva sulla valorizzazione dell'abitualità e della professionalità non direi di attribuire rilevanza all'elemento organizzativo in questo caso sia perché è espressamente svalutato dal legislatore già a livello generale sia perché proprio le caratteristiche con cui vengono creati diciamo questi beni mal si prestano alla valorizzazione dell'elemento organizzativo quindi molto probabilmente il criterio diciamo il confine il filo entro cui tracciare il confine tra lavoro autonomo e imprese è più quello dell'abitualità e della professionalità di questo utilizzo economico dei beni il fatto che per esempio sia reiterato nel tempo eccetera eccetera piuttosto che l'elemento organizzativo questo per quanto riguarda diciamo le caratteristiche insomma all'interno del nostro testo del testo unico il problema grosso ovviamente riguarda le ipotesi delle operazioni quando coinvolgano dei soggetti non residenti perché qui ovviamente entra in gioco l'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi che come noto attrae attassazione nello stato italiano tutti i compensi per l'utilizzazione economica delle opere di ingegno brevetti marchi quant'altro solo nei casi in cui i compensi in questione vengono erogati da un soggetto italiano che in Italia abbia una stabile organizzazione quindi il criterio prescelto è quello dello stato di residenza dell'utilizzatore il trattamento fiscale è poi ovviamente quello della ritenuta nel senso dell'articolo 25 del dpr 600 quindi una ritenuta del 30% in conformità poi anche a quanto stabilito dall'Ocse che appunto individua come criterio quello della residenza del beneficiario preciso che nell'ipotesi in cui si applichi la direttiva sulle royalties quindi nel caso di rapporti fra imprese consociate ovviamente le royalties saranno esenti quindi non c'è il regime della ritenuta quello che è importante sottolineare è che in ambito Ocse vengono in considerazione delle distinzioni che valorizzano ampiamente la tipologia di anche a livello giuridico di operazione che viene effettuata in modo particolare è centrale stabilire se venga ceduto interamente il diritto sul bene digitale quindi si tratti di una vera e propria cessione del diritto di proprietà o se invece venga ceduto qualcosa meno del diritto di proprietà perché l'articolo 12 del modello di convenzione Ocse qualifica come royalties esclusivamente esclusivamente i compensi percepiti per l'uso o la concessione in uso appunto di beni materiali beni digitali questo significa che l'accessione vera e propria rientra invece nell'articolo 7 e quindi realizza sotto il profilo positivo fa emergere degli utili di impresa quindi a livello applicativo si pone il problema di individuare quando si realizzi l'una o l'altra fattispecie perché ovviamente non sempre è agevole queste individuazioni per cui per esempio lo stesso Ocse stabilisce che laddove ci sia l'accessione di un software standardizzato proprio perché sostanzialmente con il trasferimento dal produttore dal distributore si esaurisce il diritto stesso di fatto è come se si cedesse in toto il diritto quindi non si avrà una royalty il compenso non sarà considerabile come una royalty ma come un utile di impresa lo stesso viene introdotta la distinzione fra i contratti di licenza e di distribuzione contratti di distribuzione il titolare non dismette completamente il diritto sul bene ma continua a sfruttarlo economicamente curiosamente almeno secondo me il la le fatti spezie che hanno adeggiato il know-how vengono considerate produttive di royalties secondo me questo aspetto è un pochino da rivedere nel senso che nel momento in cui si trasmette un'informazione segreta a prescindere dal fatto che si qualifichi l'operazione come licenza trattandosi di un bene a trasmissibilità integrale istantanea è di fatto come cedere il bene in questione to cure quindi è alquanto curioso che l'Ox dopo aver introdotto questa distinzione tra cessione totale e cessione di un qualcosa meno poi nel caso del know-how non tenga in considerazione della peculiarità del fatto che nel know-how si va a comunicare immediatamente tutte le informazioni di cui è in possesso il tra virgolette il dante causa quindi questo è un aspetto piuttosto piuttosto peculiare quindi in generale diciamo i problemi applicativi sono notevoli soprattutto perché ora abbiamo fatto qualche esempio così ma molto spesso la contrattualistica vede delle operazioni molto complesse con un combinarsi di cessioni prestazioni come qualificare i diritti di riproduzione per esempio ecco i diritti di riproduzione di mera riproduzione sono considerati in questo caso ovviamente si cede un qualcosa meno del diritto di proprietà quindi chi percepisce percepisce delle royalties mentre nel momento in cui si legittima per esempio un'operazione di download questa è considerata produttiva di utile per il percepiente diciamo conclusa questa breve rassegna della posizione OXE in materia di operazioni aventi ad oggetto i beni digitali mi addentro in quello che è la nozione di stabile organizzazione che è stata notorialmente pensata e ideata ovviamente sulle regole del commercio tradizionale per cui in un certo senso il fenomeno di dematerializzazione e digitalizzazione ha un po' lasciato impreparati si sarebbero potute creare delle regole ad hoc quindi nulla escludeva di creare una nozione ad hoc di stabile organizzazione per le ipotesi di commercio elettronico la scelta invece è stata diversa si è preferito nonostante si sia preso atto di una sorta di microsistema immanente per i beni digitali tuttavia sia a livello comunitario sia a livello internazionale sia a livello nazionale si è prediletta la via interpretativa per poi ovviamente introdurre delle mere specificazioni come quelle poi contenute nell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi che ovviamente introduce alcune specificazioni ma senza prendere posizioni espresse e dedicare una puntualizzazione mirata ai fenomeni di commercio elettronico quando si può configurare una stabile organizzazione partiamo dall'ipotesi del sito web nel caso del sito web è stato escluso che questo possa configurare una stabile organizzazione proprio perché di fatto non vi è nessuna occupazione di tipo spaziale manca il requisito della fissità per un periodo di tempo sufficiente a configurare una stabile organizzazione l'articolo 162 non dice nulla a riguardo per la verità si potrebbe trattare di un'omissione ma molti vi hanno voluto vedere diciamo la volontà di escludere che il sito internet quindi si tratterebbe di un'omissione voluta per cui il legislatore avrebbe voluto espressamente escludere che il sito internet il mero sito internet possa configurare una stabile organizzazione più problematico invece il discorso del server che abbiamo già visto in ambito IVA perché il server è a tutti gli effetti una struttura materiale comunque si tratta di computer di macchinari dotati di una ben visibile consistenza materiale quindi di per sé il server ha quei requisiti di stabilità sia materiale e temporale tali da integrare il requisito della sede fissa di affari peraltro per l'ox non rileva la mobilità ipotetica cioè il fatto che il server possa essere spostato di per sé per l'ox non rileva quello che conta è che comunque permanga la localizzazione per un periodo di tempo sufficiente a integrare il requisito temporale necessario alla configurazione di una stabile organizzazione una precisazione importante è però che il soggetto la casa madre diciamo abbia la disponibilità piena del server perché ove così non fosse dovrebbe escludere la sussistenza di una stabile organizzazione e questo è l'ipotesi più frequente perché nella maggior parte dei casi il soggetto non ha la disponibilità piena del server in uno stato diverso da quello di localizzazione diciamo della casa madre ma affitta uno spazio su un server condiviso quindi tramite le varie formule contrattuali di web hosting o internet service providing si condivide con altri utenti il medesimo spazio e non si ha il pieno controllo sul sul soggetto che appunto offre questo tipo di servizio quindi in tutti questi casi che sono poi quelli più ricorrenti nella pratica si deve escludere la sussistenza di una stabile organizzazione a meno che ipotesi in verità abbastanza rara che non ci sia un vero e proprio diritto di esclusiva perché in questo caso allora si potrebbe forse considerare come una stabile organizzazione ovviamente dopo il scontato che si esclude anche il fatto che si tratti di una stabile organizzazione personale sia per il sito web sia per il server sia perché faticherei a configurarlo come una persona per lo meno nel senso voluto dall'Ox e quindi come un agente dipendente insomma quindi in ogni caso non può essere integrato diciamo l'elaborazione in tema di stabile organizzazione personale quindi i requisiti sono che si tratti di un server di cui vi sia disponibilità piena da parte del soggetto ma rileva anche la strumentalità rispetto agli obiettivi della casa madre quindi notoriamente vengono escluse tutte le attività meramente ausiliari e preparatorie quindi solitamente le postesi di trasmissione di informazione di pubblicità e servizi marketing vengono considerate attività ausiliare preparatorie a meno che ovviamente non siano il core business del soggetto e in questo senso non c'è diciamo discrasia fra l'ox e il 162 perché anche il 162 esclude espressamente che configuri stabile organizzazione di per sé la disponibilità a qualsiasi titolo di laboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati e di informazioni finalizzate alla vendita di beni e di servizi quindi in questo caso trattandosi di attività ausiliare preparatorie non verrebbe in considerazione una stabile organizzazione quindi in conclusione si può ritenere che venga in considerazione una stabile organizzazione quando attraverso diciamo il canale telematico il soggetto abbia la disponibilità esclusiva diciamo la disponibilità piena del server tramite cui svolge attività commerciale queste posizioni tutto sommato abbastanza ormai consolidate in ambito oxe potrebbero vacillare diciamo di fronte all'incalzante emergere di software sempre più evoluti tutti i fenomeni cosiddetti di smart software perché in questi casi proprio dal punto di vista contrattuale si tratta di strumenti talmente evoluti che di fatto potrebbero qualificarsi come veri e propri rappresentanti della casa madre mi spiego meglio nel caso degli smart software si tratta di sistemi cibernetici che comunque hanno la possibilità di di limitarsi a concludere sostanzialmente un contratto esattamente come le parti l'hanno voluto ma sono in grado di combinare tutti i dati con una infinita possibilità di combinazioni quindi non è detto che l'assetto contrattuale così come effettivamente realizzato sia quello impostato diciamo dalle parti contraenti qualcuno ha chiesto qualcosa mi sembrava aver sentito ovviamente si tratta di strumenti che da un punto di vista tecnico è abbastanza difficile insomma entrare nel dettaglio però la cosa importante è che riescono a selezionare che selezionano i dati rilevanti che quindi condizionano tutte le fasi della contrattazione addirittura fornendo la soluzione maggiormente l'assetto diciamo contrattuale maggiormente conveniente quindi è logico che arriviamo veramente al confine di un'intelligenza artificiale che potrebbe io dico in chiave ovviamente prospettica assolutamente senza che ci siano delle elaborazioni delle indicazioni OXA in questo senso però a questo livello è veramente molto difficile non configurarli come stabili organizzazioni perché a tutti gli effetti anche i giuristi che si sono occupati di questi fenomeni li hanno qualificati come dei veri ben o male ricondotti al fenomeno della rappresentanza perché anche se poi dal punto di vista formale il contratto è concluso dalla casa madre di fatto le combinazioni che possono realizzare questi software sono talmente tante da a tutti gli effetti operare in autonomia cioè non si tratta di una mera automatizzazione ma di una autonomia ancorché virtuale di questi software mi chiudo diciamo con questo spunto un po' pionieristico grazie 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 anche per averci dato veramente questo spunto io non sono una nativa digitale quindi ogni volta faccio molta fatica a impossessarmi e sono fiera quando c'è riesco pochissimo a impossessarmi di qualche diciamo abilità digitale ma ogni volta che me ne in possesso di una scopro che sono ancora molto indietro bene no grazie anche a questa veramente interessantissima diciamo escursus nella stabile organizzazione che sicuramente è estremamente interessante e a questo punto dopo aver inquadrato quelli che possono essere i più rilevanti problemi soluzioni forse ancora poche non per demerito dei nostri relatori ma perché la materia come abbiamo capito è abbastanza in fermento ma almeno i confini del problema ecco che ci interessa molto sentire la relazione del dottor Roberto Curco che essendo occupandosi diciamo dell'ufficio della fiscalità della confindustria di Trento ha toccato con mano quelli che sono dal punto di vista immagino degli operatori i problemi più impellenti e quelli che fra poco verranno relativamente allo commercio elettorale allora grazie innanzitutto alla dottoressa Magliaro per l'invito allora come confindustria è evidente che siamo più interessati le nostre aziende sono più interessati all'acquisto di servizi in particolare che ha la vendita qualche anno fa con la dottoressa Indrici avevamo valutato un intervento di qualche azienda nostra associata al festival dell'economia per le vendite a distanza e si può dire che quasi non le avevamo trovate perché le imprese manifatturiere normalmente hanno altri canali di distribuzione e peraltro finché ci limitiamo al mercato italiano e europeo nel momento in cui uno si è fatto un mercato di distributori non va a fare concorrenza ai propri distributori con la vendita diretta quindi diciamo la fase attiva non l'abbiamo visto faccio una battuta ho detto proprio un'azienda attento a dove hai il server perché il server ti identifica una stabile organizzazione cioè il luogo dove devi andare a pagare le imposte mi hanno detto ma sei antiquato i server non esistono più adesso c'è il cloud quello che faccio non lo so neanche io non lo so neanche io dov'è no? e per confermare questa cosa qualche poco tempo fa abbiamo avuto un incontro come Confindustria con i vertici della direzione centrale accertamento dell'agenzia delle entrate e hanno detto dobbiamo studiarla bene questa BEPS a livello internazionale cioè questo sistema per cercare di tassare i redditi di queste grosse case Google Amazon che avrete letto sui giornali hanno tassazioni praticamente ridotte perché se andiamo a focalizzare l'attenzione su dove si trova un server questi lo metteranno su un satellite quando gli diremo che non possono tenerlo alle isole vergini britanniche dopo questa introduzione di folklore quindi io mi focalizzo sull'aspetto prevalentemente IVA dell'acquisto di beni e servizi quando c'è di mezzo diciamo lo strumento elettronico sulle dirette abbiamo già visto che adempimenti non ce ne sono perché perché appunto nel momento in cui vado ad acquistare il diritto di utilizzare un software non sto acquistando una royalty che sarebbe mi obbligherebbe all'effettuazione di una ritenuta sostanzialmente da articolo 25 del puro da convenzione ma sto acquistando sostanzialmente un bene per cui non mi pongo proprio il problema e quando si dice qualificato articolo 7 della convenzione è qualificato reddito di impresa il soggetto che acquista da appunto una controparte che sta realizzando reddito di impresa non si pone il problema della royalty viceversa caso molto limitato anche per noi compriamo il diritto allo sfruttamento di un software io divento proprietario di questo software posso modificarlo posso venderlo in questo caso sto comprando un diritto un bene immateriale rientra nel concetto di royalty devo applicare la ritenuta ad articolo 25 del tour che poi normalmente andiamo con le convenzioni o con la direttiva interessi royalty quindi il problema è sull'iva sostanzialmente e sull'iva allora distinguiamo subito le due possibilità faccio la transazione telematicamente e mi viene spedito un bene faccio la transazione telematicamente si conclude telematicamente pago con carta di credito ricevo qualcosa tramite computer allora al primo caso si dice se ricevi qualcosa è sempre un acquisto di beni per cui sarà un acquisto comunitario se arriva dalla comunità europea sarà un'importazione se arriva da fuori la comunità europea allora no la prima eccezione è il software personalizzato ormai è andata in disuso ci sono le risoluzioni perché quando diciamo i sistemi di comunicazione telematica non erano così veloci e capienti come oggi io mi facevo fare un software da una software house dagli stati uniti precisamente per le mie esigenze questa doveva materializzarlo su ncd spediva i cd arrivano i cd alla dogana la dogana mi chiede cos'è questa cosa questo è un software personalizzato essendo un software personalizzato è una prestazione di servizi è vista come prestazione di servizi il valore del cd cioè il cd vergine insomma su quello lo considero beni pago d'assio iva in dogana sulla prestazione di servizi una prestazione di servizi generica assolvo l'iva in italia vedremo poi meglio come si assolve comunque facendo autofattura se questo software personalizzato mi arrivasse invece dall'unione europea abbiamo un discorso di accessorietà per la quale il supporto diventa accessori un'accessione di beni che è accessoria all'operazione principale che è una prestazione di servizi io tratto tutto come prestazione di servizi generica e assolvo l'iva in italia se togliamo questo caso qua quando mi arriva dalla merce sto facendo degli acquisti di beni allora se la merce mi arriva da fuori la comunità europea sto facendo un'importazione l'iva l'assolvo in dogana fondamentalmente poi ci sono mille modi per il quale c'è rappresentante fiscale l'introduzione in libera pratica dal tradogana ma lasciamo perdere se la merce mi arriva dall'unione europea ci dice è un acquisto comunitario e qua si commette molte volte il primo grosso errore di considerare l'acquisto comunitario perché nell'acquisto comunitario ci sono dei requisiti abbiamo un cedente comunitario con partita IVA noi siamo comunitari con partita IVA la transazione prevede il trasferimento del bene da uno stato comunitario a un altro stato comunitario e ne aggiungo una che non c'è proprio nei libri classici non deve esserci di mezzo fondamentalmente una posizione IVA in Italia del cedente comunitario perché allora succede questo principio generale dell'IVA l'IVA è un'imposta sui consumi dovremmo andare a farlo applicare nel paese dove avviene il consumo per cui nel paese di destino a livello comunitario si è detto ok quando il cliente è un soggetto passivo IVA del paese di destino sessione comunitaria quando il cliente non è soggetto passivo per semplicità facciamo per intanto IVA del paese di origine della merce salvo i casi che prestano più problemi alla distorsione della concorrenza le sessioni di auto nuove perché vi rendete conto una sessione di una macchina che si muove un attimo che vado a prendermela in uno stato con l'IVA il 15 invece che andare a prenderla come privato con l'IVA il 22 e poi le sessioni a distanza dove sessioni a distanza si intende un bene che viene spedito da un soggetto passivo per cui la spedizione deve essere a cura del cedente nei confronti di un sessionario di un altro stato qui si dice allora attenzione a me va bene l'IVA del paese del prestatore purché le operazioni non superino un certo importo perché se le operazioni superano un certo importo bisogna applicare l'IVA del paese di destino per non andare a distorcere troppo la concorrenza allora cosa succede se noi prendiamo Apple o Dell per fare un nome da normativa comunitaria italiana se effettuano vendite in un anno solare per più di 35.000 euro in Italia nei confronti dei privati hanno l'obbligo di applicare l'IVA italiana aprendo una partita IVA italiana quindi aprendola con un rappresentante fiscale o identificandosi direttamente in Italia quindi cosa fa questo computer di Apple si trova in Lussemburgo abbiamo Apple Lussemburgo allora sarà stato fatto in Cina sarà arrivato al porto di Rotterdam sarà stato immesso in libera pratica non avrà pagato l'IVA in Olanda sarà finito in Lussemburgo in Lussemburgo deve essere ceduto dalla Dell lussemburghese alla sua partita IVA italiana concessione comunitaria la partita IVA italiana di Dell fa un acquisto comunitario applica l'IVA italiana nei confronti del cliente finale questa è l'operazione con i privati cosa succede se acquistare è un'azienda allora se acquistare un'azienda probabilmente i consulenti di Dell in Lussemburgo hanno fatto questo ragionamento se io faccio la vendita diretta dalla partita IVA lussemburghese al cliente finale io ho tre ordini di problemi uno che se l'italiano non è iscritto al Vies non si capisce bene se posso fargli l'accessione comunitaria c'è una sentenza della corte di giustizia che dice di sì ma in tutti gli stati se non ci sono le partite IVA iscritte ai Vies si dice che non puoi fare l'accessione comunitaria secondo problema obbligo il mio cliente a fare un modello intrastat e quindi uno dice ma insomma non li ho mai fatti magari è l'alberghetto no che dice il compruto vabbè ascolta vado alla troni che faccio prima no terzo ho un problema di dimostrazione non è che la merce è uscita dallo Stato per cui dovrei magari recuperare la prova di uscita del cliente italiano che mi ha firmato la CMR la bolla eccetera per cui ci sarebbero un po' di complicazioni allora la DEL dice io quando vendo nei confronti delle imprese faccio una cessione assimilata alle cessioni comunitarie cioè vendo da me che sono il soggetto lussemburghese la mia partita IVA italiana quindi la mia partita IVA italiana ai fini IVA è una virtualizzazione IVA diventa proprietaria di questo computer fa l'acquisto comunitario quindi doppia registrazione fa il modello Intrastat a quel punto diciamo c'è una partita IVA italiana che può vendere a un soggetto italiano un bene che è già in Italia cosa succedeva prima del 2010 applicava l'IVA per cui arrivava una fattura dell'Italia identificata direttamente a Pescara con l'IVA italiana prendevamo quest'IVA ce la mettevamo in detrazione e non sorgeva nessun problema dal 2010 hanno cambiato la normativa e sono creati problemi che a 4 anni di distanza ancora arrivano molti quesiti di aziende che non hanno capito bene il funzionamento il legislatore ha detto ma se io consento a un soggetto che non è stabilito nel mio Stato per cui a un soggetto lussemburghese rumeno a un soggetto statunitense qualunque Stato possibile di aprire una partita IVA italiana allora con gli extracomunitari hanno l'obbligo di istituire un rappresentante fiscale che è solidamente obbligato per eventuali violazioni che fa questo soggetto i comunitari non hanno l'obbligo di istituire un rappresentante fiscale possono identificarsi direttamente a Pescara cioè vanno a Pescara dicono io sono la società anonima lussemburghese tal dei tali aprimi una partita IVA viene aperta una partita IVA voi sapete che la partita IVA l'ultimo numero un codice di controllo e quindi penultimo terzultimo e quartultimo sono gli identificativi dell'ufficio lo 022 per Trento noi ci troviamo questi tre numeri che sono 39999 vuol dire che è stata aperta una partita IVA a Pescara identificati direttamente allora il legislatore si è detto ma io prendo una società che ne so io della Lituania lo stato solo perché geograficamente credo che sia il più lontano se non mi inganna viene apre una partita IVA a Pescara vende con IVA i clienti italiani la incassa il cliente italiano ha fatto l'acquisto ha pagato ha diritto assolutamente a portarsi in detrazione quell'IVA se questo soggetto non me la paga l'IVA il lituano identificato chi va a corrergli dietro questo soggetto allora nel 2010 ha cambiato la normativa e ha detto attenzione tutti i soggetti stabiliti all'estero prima il professor Montanari parlava del luogo di stabilimento tutti i soggetti stabiliti all'estero anche se sono residenti in Italia anche se sono identificati in Italia hanno una partita IVA italiana quando vendono a italiani soggetti passivi non applicano l'IVA perché l'IVA la applica al cliente con il reverse charge allora cosa succede che se io alla DEL gli dico che sono un soggetto passivo mi arriva una fattura senza IVA normalmente uno dice DEL Lussemburgo fattura senza IVA un acquisto comunitario faccio l'integrazione faccio il mio modello intrastat dall'altra parte l'intra non esiste perché la DEL l'ha fatto sul proprio rappresentante fiscale e poi abbiamo i guai allora loro normalmente lo scrivono nelle fatture attenzione questa è devi assolvere l'IVA ai sensi dell'articolo 17,2 dell'IPR 633 quindi vuol dire che devo comunque assolvere l'IVA in Italia devo farlo con che modalità integrando la fattura del fornitore se questo è stabilito nell'Unione Europea emettendo autofattura se questo è stabilito fuori dall'Unione Europea e non devo fare il modello intrastat quindi diciamo che la distinzione tra acquisto comunitario acquisto tramite soggetto che ha il rappresentante fiscale italiano è praticamente che non facciamo il modello intrastat perché come adempimento adesso hanno unificato questi adempimenti c'era uno scopo lodevole che era quello di semplificare di dire ogni volta che acquisti da un comunitario integra mentre una volta si diceva se fai un acquisto comunitario di quelli da intrastat per capirci integri in tutti gli altri casi fai autofatture allora con l'intento di semplificare uno ha detto ma no guarda se è comunitario integra sempre tanto che le aziende chiamano e dicono scusa ma se io integro il mio software mi manda automaticamente l'operazione nell'intrastat perché integrazione ha sempre voluto dire acquisto comunitario acquisto e quindi interest per cui si è fatta un po' questa diciamo problema informatico per restare nell'argomento che molte volte uno emette l'autofattura e poi ricocchia i dati dell'autofattura sull'integrazione o la considera come integrazione anche se in realtà fa un'autofattura per imbrogliare il software e non fargli fare un interest che in realtà non va fatto e questo diciamo se facciamo le cose giuste il problema è che sembra che le cose giuste siano abbastanza rare nel senso che gli acquisti di queste cose il computer non lo compra il contabile lo compra l'informatico va sul sito della Dell quando c'è da compilare il campo VAT identification number dice ma io non so cos'è questa cosa è facoltativo lasciamolo via allora se io non compilo il campo VAT identification number o se questi hanno il sito italiano numero di partita IVA con l'asterisco facoltativo Dell mi considera un privato allora se mi considero un privato abbiamo detto che siccome supera i 35.000 euro di vendita nei confronti dei privati mi applica l'IVA italiana mi arriva una fattura da DEL con l'IVA italiana allora quando la norma dice che l'IVA deve essere assolta dal cessionario e non dal cedente torniamo con i vecchi problemi che avevamo con il reverse charge dell'edilizia per cui le vecchie risoluzioni che ti dicono non toccare quell'IVA che ha debitato erroneamente il cedente non portartela in detrazione comunque io l'IVA la voglio da te allora noi diciamo tre procedure possibili chiamiamo il fornitore e gli diciamo rifammi la fattura quando vediamo il numero di fattura 5 milioni e qualcosa all'interno dell'anno forse diciamo non è l'operazione giusta da fare in termini di tempistica la seconda possibilità è diciamo l'IVA lo Stato italiano la vuole da te cessionario dagli quest'IVA integra lo stesso la fattura del fornitore alla fine è quello che costa meno sostanzialmente rintegro la fattura del fornitore qua la domanda è sulla base imponibile o sulla base imponibile comprensiva dell'IVA noi diciamo sulla base imponibile perché lo stesso articolo 15 ci dice l'IVA non può costituire base imponibile di altra IVA di IVA stiamo parlando per cui lo diciamo integra con la base imponibile lo stesso l'IVA che ti ha debitato il fornitore non puoi portartela in detrazione se non te la porti in detrazione va a costo costo deducibile o indeducibile diciamo che io non vedo preclusioni all'indeducibilità di questa cosa salvo che giustamente qualcuno fa ragionamento ma insomma siamo sicuri che ti considerano inerente un costo che deriva da un tuo errore che con un po' più di diligenza potevi evitare della serie se ci arriva una multa per divieto di sosta noi diciamo è deducibile l'agenzia non è deducibile insomma per cui molte volte chi non vuole correre rischi abbiamo questa fattura di 200 euro per l'acquisto di un software 40 euro di IVA 40 euro mi rifaccio il reverse 40 euro di costo indeducibile parliamo del 27,5 su 40 euro non voglio ecco questa è la seconda possibilità la terza è stata aperta dalla risoluzione 140 del 2010 proprio su un caso specifico e qua l'agenzia dell'entrata ha fatto un ragionamento secondo me corretto ha detto io ho cambiato la norma sul reverse charge negli anni perché con reverse charge e deal rischiavamo che certi errori facevano fallire le aziende fondamentalmente l'IVA debitata da una parte o dall'altra praticamente qua sistema sanzionatorio italiano salvo voglio dire poche eccezioni parliamo di sanzioni del 100% anche in caso di errori formali allora con l'errore nel reverse charge hanno detto ma no guarda se l'IVA è stata debitata dal soggetto sbagliato ma comunque non è stata evasa una sanzione è del 3% e se a sbagliare è stato che il cedente ha debitato un IVA che non doveva versare il cedente l'ha versata resta ferma la detraibilità IVA in capo al cessionario in questa risoluzione l'agenzia ha detto beh tu con il ravvedimento ti prendi quella che sarebbe il comportamento sanzionatorio se ti prendessi io e dividi per 8 sostanzialmente dividi per 8 adesso il ravvedimento per cui dice la detraibilità dell'IVA se tu sei sicuro che il cedente quell'IVA l'abbia versata non viene messa in discussione dall'errata applicazione del reverse charge mi prendi la sanzione del 3% paghi un ottavo della sanzione del 3% la sanzione del 3% è minimo 258 euro mi sembra e siccome la norma dice fermarestando la detraibilità dell'imposta hai la possibilità praticamente di detrartra ecco io sono l'unico che sostiene insomma però facendo uno più uno mi sembrerebbe diciamo che normalmente per lo meno quella che è seguita dalle aziende che ci contattano la seconda rifacciamo il reverse sulla fattura dove c'è l'IVA se gli importi sono abbastanza modesti quindi questo è il discorso cessioni diciamo quando ci arriva un bene un bene in casa quando il bene non ci arriva perché io ho acquistato software ho scaricato ho scaricato tutto da internet abbiamo detto che generalmente nella maggior parte dei casi siamo nell'ambito di questi servizi particolari no resi tramite strumenti elettronici che dal punto di vista IVA come sono trattati allora ricadono in regola generale nel rapporto B2B business to business cioè quando il cliente è un soggetto passivo quindi regola generale vuol dire tassati nello stato del cliente se invece siamo nel rapporto B2C business to consumer il cliente non è un soggetto passivo è un privato chiamiamolo semplicemente no? allora c'ha due tipi di tassazione in funzione di chi è il cedente di chi è il prestatore perché parliamo di servizi se il prestatore è un comunitario IVA del paese del prestatore se il prestatore è un extra comunitario IVA del paese del cliente cosa che come ha detto il professore prima dal 2015 cambierà è opportuno che cambi per questo motivo qua allora stiamo parlando di operazioni fatte nei confronti di consumatori finali quindi dove l'IVA è un costo per definizione noi abbiamo un'impresa americana che vende a un privato italiano applica l'IVA al 22% un'impresa lussemburghese che applica rende lo stesso servizio al privato italiano applica l'IVA lussemburghese al 15% allora la domanda è secondo voi Google hanno una società in Lussemburgo o fatturano direttamente dagli Stati Uniti allora le fatture che ho visto io tranne un caso di una società canadese che vendeva foto strane che abbiamo visto era proprio una società extracomunitaria per cui applicava l'IVA italiana e l'applicava come? con un regime speciale che non ha voluto parlarne il professore men che meno ve lo racconto io nel senso che quando appunto un soggetto extracomunitario fa questi servizi nei confronti di privati la norma gli impone di pagare l'IVA in ogni stato in cui ha il cliente gli dicono ma non sta aprirti un rappresentante fiscale in ogni stato ti identifichi in un unico stato ti do una partita IVA che è una partita IVA EU non so se qualcuno ha mai visto la partita IVA EU allora da questa partita IVA ogni volta tu addebiti l'IVA del paese del cliente e mi fai una dichiarazione credo che sia ogni tre mesi allo stato dove hai fatto questa identificazione non so se ne esistono in Italia io qualche anno fa avevo letto che sono tutti gli extracomunitari in Lussemburgo in Irlanda o in Inghilterra anche per motivi per motivi linguistici comunque è ovvio e quindi praticamente fa la dichiarazione a Lussemburgo e Lussemburgo versa i soldi a tutti gli altri 25 26 stati quanti sono diventati ormai non ci sta allora questo è il caso un po' diciamo un po' marginale allora soggetto extracomunitario partita IVA EU se è un privato italiano non abbiamo problema gli arriva si scarica il software gli arriva la fattura con l'IVA italiana se è l'azienda e l'azienda abbiamo detto che se fa le cose giuste compila il campo vatti identification number è un servizio generico l'altro sa che siamo soggetti passivi c'è debita senza IVA quindi noi cosa facciamo quando compriamo un servizio generico da un extracomunitario e mettiamo autofattura e non compiliamo un modello intrastat se invece non facciamo le cose corrette che è la cosa informatici appunto con quel campo lì non vanno d'accordo ci arriverà una fattura dalla partita IVA EU con una bella IVA 22% IVA italiana per cui torniamo al caso di prima abbiamo una fattura con IVA italiana per cui ce la facciamo stornare facciamo reverse lo stesso oppure ci affidiamo a questa risoluzione e paghiamo che molte volte costa di più perché se il 3% il minimo è 258 3% dell'IVA il minimo 258 euro probabilmente ci costa ancora di più oltre al fatto che poi verò smentito sicuramente che non si può fare il caso più frequente quindi è il soggetto comunitario quindi nomi che noi riconduciamo alle software house americane parliamo sempre di società limited americane società anonime lussemburghesi quindi ci arriva la fattura se facciamo le cose giuste compiliamo il campo watt identification number ci arriva la fattura senza IVA sto acquistando abbiamo detto un servizio generico da un fornitore comunitario integriamo la fattura e in questo caso qua facciamo l'intra servizi servizio generico se facciamo le cose sbagliate ci arriva una fattura con l'IVA lussemburghese allora cosa facciamo quando ci arriva una fattura con l'IVA lussemburghese torniamo da capo stornarla a farcela stornare facciamo il reverse io anche qua dico facciamolo sempre sulla base imponibile il reverse facciamo comunque il modello intrastat perché anche se lui ci ha considerato privati per errore l'errore è suo ma noi sappiamo di essere soggetti passivi facciamo comunque l'intrastat e quindi fondamentalmente la soluzione è questa IVA lussemburghese cosa ne facciamo di quest'IVA lussemburghese l'IVA lussemburghese a mio avviso non è possibile chiederla rimborso allo Stato lussemburghese allora alcuni ci provano la portano a casa però abbiamo avuto una sentenza della Corte di Giustizia europea sulla Germania che peraltro vedo che è utilizzata dal centro operativo di Pescara questa sentenza che dice gli stati membri devono rimborsare solo l'IVA che è dovuta nello Stato perché le cose sono state fatte correttamente l'IVA che il fornitore ti ha debitato per errore io non te la rimborso richiede la rimborso al fornitore per cui diciamo che io dico direttamente non andate a chiedere a rimborso quest'IVA magari in Lussemburgo sono cose che si verificano abbastanza frequentemente quelle di avere fatture con IVA estera che il fornitore sbaglia in Germania non la rimborsano sono molto attenti in altri stati sono un po' meno attenti la rimborsano però diciamo noi diciamo mettila direttamente a costo mettila direttamente a costo quest'IVA che appunto facciamo prima e quindi questo è un po' l'inquadramento generale c'è un ulteriore caso di complicazione se noi abbiamo detto che l'acquisto di software è un servizio generico quando lo compriamo da prestatori comunitari cosa ci chiede l'agenzia delle entrate ci chiede che la nostra partita IVA sia iscritta al Vies per cui il piccolo professionista che fa 30.000 euro di fatturato se vuole proteggere il proprio computer scaricandosi l'antivirus dalla Norton che se non ricordo male è irlandese dovrebbe chiedere all'agenzia delle entrate che la propria partita IVA venga iscritta nel sistema Vies cosa succede se non sono iscritto nel sistema Vies beh intanto se non compilo il campo della partita IVA probabilmente mi arriverà l'IVA irlandese o mi arriverà l'IVA lussemburghese perché questi software hanno un sistema che vanno a controllare in automatico la presenza della partita IVA allora l'agenzia delle entrate ha dato una risposta dice nel momento in cui non sei iscritto al Vies io non ti considero come per quel settore lì come un'impresa ti considero come un privato per cui per me è giusta che ci sia l'IVA estera se non c'è l'IVA estera il problema è dello Stato estero condomani andrà a chiedere a questo cliente al proprio fornitore perché ha debitato hai messo una fattura senza IVA non essendoci dall'altra parte una partita IVA hai iscritto al Vies per cui noi diciamo se non sei iscritto al Vies ricevi questi servizi senza IVA estera allora non mi piace posso fare un commento in genere sono molto dico quello che dice l'agenzia perché appunto come Confindustria noi non facciamo i fiscalisti noi vogliamo dire qual è il pensiero dell'agenzia però la Corte di Giustizia europea ha smentito un po' tutti un anno fa era un caso di una triangolazione dove un tedesco vendeva a un americano e la merce andava a finire in Finlandia allora casi dove noi abbiamo sempre detto se tu vendi a un soggetto il tuo cliente destinatario della fattura non ha una partita IVA europea iscritto al Vies applica l'IVA cosa che gli americani vanno in bestia perché dicono già l'IVA fanno fatica a capirla perché loro hanno un'imposta sui consumi completamente diversa dicono ma cos'è sta roba cosa c'entra un'IVA italiana per della merce che mi va a finire in Finlandia un'IVA tedesca tanto che addirittura non siamo solo noi in Italia che sbagliamo noi gli dicevamo vatti a vedere la circolare inglese sulle triangolazioni e vedi che anche in Inghilterra su un caso del genere ti dicono di applicare l'imposta inglese la Corte di Giustizia è venuta fuori con una sentenza che non è stata recepita neanche in stati molto più veloci come la Germania a recepire e dice ma guardate che nelle operazioni comunitarie la direttiva prevede che per la realizzazione di una era una cessione in questo caso comunitaria basta la soggettività passiva dei due soggetti l'iscrizione al Vies è un elemento formale che non può inficiare praticamente la natura di questa esenzione qua per cui diciamo che dobbiamo un attimino andare a ripensare ma forse a livello comunitario più che italiano questa cosa qua perché appunto teoricamente io non ho il Vies sono un soggetto passivo lo stesso ricevo i servizi dovrei ricevere i servizi senza IVA e applicarmi l'IVA italiana tanto che addirittura il regolamento 282 del 2011 di cui parlava il professore lui dice contrariamente al provvedimento dell'agenzia di entrate sul Vies dice attenzione tu considera soggetto passivo anche quello che ha dimostrato di aver chiesto l'iscrizione al Vies come peraltro diceva la vecchia circolare 13 del 94 sulle cessioni comunitarie mentre qua da noi ti dicono attento tu una volta che l'hai chiesta devi aspettare 30 giorni prima di essere autorizzata a fare questo tipo di operazioni allora si pone questo problema che appunto a livello comunitario è un po' da capire a livello comunitario però a mio avviso se ne pone un altro che è di economico forse più che giuridico se l'IVA è un'imposta sui consumi e salvo deroghe va tassata nel paese del consumatore se noi diciamo che un soggetto che non si iscrive al Vies e quindi volontariamente decide se iscriversi o non iscriversi al Vies decide di avere IVA italiana 22% IVA svedese 25% o IVA lussemburghese 15% quando magari questo soggetto quest'IVA non può detrarla stiamo consentendo a certi soggetti di fare una pianificazione fiscale non indifferente mi riferisco a banche e assicurazioni una banca che l'IVA non la detrae se si compra un servizio che è iscritto al Vies applica IVA italiana decide di non acquistarsi il servizio di manutenzione software non lo compra più dall'impresa italiana che gli fattura con l'IVA lo compra dall'impresa lussemburghese gli fattura il 15% di IVA perché tanto questo soggetto non è iscritto al Vies per cui qualcosa non funziona stiamo parlando di soggetti che IVA non possono portare in detrazione per cui quest'IVA va a costo ecco quindi con questo dubbio amletico se le banche italiane che erano adeguatamente rappresentate ai tempi di questa risoluzione sul Vies come dicono i maligni comprino i software dal Lussemburgo senza essere iscritti al Vies ringrazio tutti dell'attenzione grazie 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 al dottor Roberto Curco che ci ha dato veramente uno spaccato anche se nel poco tempo ovviamente che prevede questi diacologhi di quelli che possono essere i vari problemi abbiamo ancora qualche minuto per eventuali domande se ci sono è un argomento abbastanza un quesito allora la faccio io un quesito non so a chi allora io lo faccio poi magari qualcuno allora il quesito è questo un lavoratore dipendente quesili che succedono che nel tempo libero ha un sito un proprio sito di statistiche calcistiche gratuito ovviamente a questo punto visto che non so ci prende a fare queste statistiche un importante sito inglese di scommesse gli propone di mettere un banner sulla propria pagina web riconoscendogli perché è questo il punto divertente riconoscendo una sorta di commissione relativamente visto che questo è un sito di scommesse tutti coloro che entravano nel sito delle scommesse inglese attraverso il banner del sito italiano e perdevano quindi faceva vincere il sito inglese sulle vincite che il sito inglese effettuava su coloro che erano entrati attraverso il banner italiano gli riconosceva una percentuale questo non avrebbe portato nessun problema se non fosse che a un certo punto visto che forse poi le statistiche erano fatte bene è schizzato nei primi posti dei siti di statistiche quindi si è spaventato per la somma che ancora non ha riscosso e ancora fisicamente in Inghilterra nel sito delle scommesse a sua disposizione eventualmente per scommettere o anche per ritirarle quindi chiede ma come li devo soggettare a tassazione perché possiamo dire che è un imprenditore solo per il fatto di avere concesso un banner pubblicitario l'attività è strana ma è una pubblicità commerciale oppure è un procacciamento d'affari un'agenzia non è facile nel senso che effettivamente però non viene riconosciuto un compenso No certo però diciamo che non era ricompensato per l'attività diciamo pubblicitaria del banner era solo ricompensato per tutti coloro che attraverso il banner entravano nel sito e perdevano quindi facevano vincere il sito inglese quindi forse più che cioè se il compenso veniva fissato il compenso era percentuale alle vincite che si effettuavano attraverso cioè più perdeva chi entrava dal banner esattamente 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 chi è bolico ma detto questo è vero che il banner sta 24 ore su 24 365 ore al giorno però giorni all'anno però è anche vero che l'attività il problema è proprio questo l'occasionalità però potrebbe essere configurato io a sentimento mi sentirei d'accordo col direttore a sentimento però faccio fatica a vedere un'attività nel senso che giuridicamente un'attività presuppone un compimento di atti sta fermo sì dico anche che è un po' complicata la cosa dal fatto che il sito inglese sulla percentuale di incasso che fa sulle vincite che ottiene da quelli che passano per il sito fa una ritenuta ah fa la ritenuta in Inghilterra sì perché bisogna trattarla come vincite vabbè credito di imposti sì no 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 però è e quindi ripeto questa è una specie abbastanza no 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 ma si preoccupa molto per il fatto che ovviamente da non da non avere nulla e non non avere non avere un contratto per la pubblicizzazione del banner e quindi si preoccupa molto di come fare ma non è facile inquadrare il regime fiscale di questo tipo di operazione partita IVA inglese è anche vero che lui potrebbe giocarli quei soldi ecco cioè voglio dire se in un casino virtuale in realtà sono soldi in una sorta di conto corrente in una sorta di conto corrente a suo nome e potrebbero anche non essere riscossi ma essere utilizzati per il gioco però ha un diritto su quei soldi cioè se c'è già contrattualmente stabilito per esempio gli posso fare un'esecuzione dipende perché se noi lo consideriamo imprenditore allora andiamo per competenza ma se non lo consideriamo imprenditore dobbiamo considerarlo per cassa lui per cassa non li ha incassati fiscalmente certamente però se gli faccio un decreto ingiuntivo gli vado a prendere sulla base del contratto nel senso no no ma il sito glieli vuole dare non è però può anche giocarle potrebbe anche potrebbe capitare va bene solo per assolutamente sì è meglio se li lascia io volevo dire volevo portare una considerazione sul tema che è stato fatto sul punto che riguarda la scelta che è stato fatto perché voglio fare la scelta però mi viene in mente non so se si sente no non è un problema ah ho capito allora volevo fare una considerazione in merito alla scelta quando il soggetto in qualche modo ha la possibilità di qualificarsi imprenditore oppure no perché per esempio se troviamo un parallelo con un'operazione che viene effettuata all'interno dello Stato il professionista o l'imprenditore può e sempre comunque fare degli acquisti a livello personale a livello non imprenditoriale e in questo caso facciamo l'esempio di chi ha un'attività commerciale di chi ha comunque una partita di vado a fare degli acquisti presso la metro dove comunque gli rilasciano fattura e poi lui dice no questo è un acquisto privato io lo classifico con un acquisto privato quindi molto probabilmente lo dico così a livello probabilmente di ipotesi molto probabilmente la logica che sta dietro a quella risoluzione ministeriale può essere anche di questo genere cioè nel senso di dire bene io posso ammettere comunque che un soggetto nel momento in cui pur essendo comunque un imprenditore è chiaro che questo può comportare dei problemi anche voglio dire poi a livello di ricostruzione globale di quella che può essere l'attività perché dice non so se io poi questo sistema lo utilizzo sistematicamente per eludere i costi e questo poi mi consente di eludere anche i ricavi evidentemente c'è qualcosa che non va però se questo invece è una cosa del tutto marginale secondo me è tollerabile nel senso che io in quel momento lì mi qualifico non sono iscritto al VDS mi qualifico per è chiaro che noi tratteremo in maniera molto diversa il soggetto marginale quel professionista che ha fatto un acquisto di 100 euro rispetto a quello che può essere invece la problematica di un'organizzazione bancaria e quant'altro insomma dove evidentemente gli interviene poi il legislatore infatti sugli acquisti il regolamento comunitario quando hanno cambiato hanno fatto il VAT package del 2008 entrato in vigore nel 2010 che dice quando i servizi vanno attasciati a destino quando i servizi vanno attasciati secondo altre metodologie dice attenzione il criterio del destinatario soggetto passivo viene derogato quando l'acquisto viene fatto per l'uso privato e dei propri dipendenti e che anche qua ci dà qualche dubbio ma se io compro qualcosa i panettoni li fanno ancora i veronesi insomma non compriamo lì dalla Germania almeno quello ma io compro ecco i Würstel della Germania per fare il pacchetto di Natale lo do ai clienti ma secondo il regolamento comunitario dovrei forse qualificarmi come privato dall'azienda dei Würstel tedesca e prendermi l'IVA il problema che abbiamo è l'azienda che non è scritta al VIES perché non fa operazioni colestero non fa operazioni attive e chiama che ha già fatto l'acquisto del software praticamente assolutamente inerente all'attività di impresa quando noi gli avremmo detto avresti dovuto iscriverti al VIES e aspettare 30 giorni e eravamo sicuri di essere giusto IVA italiana perché siamo in regime di impresa questo caso qua dunque dove l'acquisto è inerente all'attività io ho fatto una provocazione perché a fine intervento dovevo aumentare un po' il livello di attenzione era un po' una provocazione però il caso è quello dell'impresa che si accorge dopo aver scaricato l'antivirus che non è scritto al VIES quasi tutti perché l'antivirus lo scarica no l'alberghi ormai sono tutti iscritti al VIES perché sono su booking ma anche il professor infatti che arriva la fattura a fine mese da registrargli è chiaramente una cosa da regime IVA abbiamo una sentenza che dice beh insomma se non sei scritta al VIES è logico che vada IVA italiana ci troviamo IVA lussemburghese ma io lo dico nell'interesse dell'erario nel senso l'IVA la applichiamo lo stesso è italiana o restiamo a questa risoluzione che aveva voglio dire tutti altri fini che era la mia ipotesi era quella appunto di questo convine nel senso che nel momento in cui io effetto un acquisto posso qualificarlo come un acquisto diciamo dell'impresa o dell'attività professionale è chiaro che questo non può valere per la multinazionale per la SPA perché la SPA qualsiasi operazione che fa per natura è un'operazione che rientra nell'impresa la SPA non potrà dire però se c'è questa escamodagia di dire beh bene io l'operazione la classifico come un'operazione come dire a livello privato probabilmente posso risolvere il problema è ovvio che di queste operazioni devono avere comunque carattere di assoluta marginalità perché se invece diventa sistema è tutt'altra cosa perché se la qualifico privata ai fini IVA e mi pago il 15% invece che il 22% parliamo di IVA non detraibile perché se no non c'è senso allora voi è considerata privata anche ai fini delle imposte dirette non ti deduci il costo la prossima volta stiamo più tranquilli facciamo la bella circolare ai clienti di dire guarda che prima di scaricarti l'antivirus devi iscriverti al Vies adesso siamo in questo imbarazzo dove ci sentiremo di fargli pagare IVA italiana lo stesso perché abbiamo però con questa risoluzione e peraltro la risoluzione dice un'altra risoluzione dice attento che se tu fai un reverse che non dovevi fare il contesto la detrazione dell'IVA che hai mai pagato tu vabbè dopo lì facciamo una partita di giro però mi resta in piedi una sanzione per cui anche fare un reverse quando una risoluzione mi dice di no siamo un po' in imbarazzo penso che anche i professionisti che hanno avuto questi casi si saranno posti questo problema qua comunque grazie della precisazione bene abbiamo rispettato l'orario io vi ringrazio vi ricordo che i dialoghi di diritto tributario sessione primaverile sono terminati ma la prossima settimana c'è un dialogo di diritto amministrativo che in realtà riguarda questioni di diritto tributario perché è relativo all'applicabilità delle norme sul procedimento amministrativo e dello statuto del contribuente al sistema tributario quindi ovviamente estendo l'invito a chi non l'avesse già visto alla prossima settimana interviene anche garante a chi non l'avesse 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 Grazie.